La politica è la cosa più bella del mondo perché significa occuparsi del futuro delle proprie comunità. Non credete pertanto a tutti coloro che vi dicono che in politica ci sono solo dei ladroni e che la politica è fatta di schifezze, perché è il modo migliore per allontanare ognuno di voi proprio dalla politica. Io ho incominciato tanti anni fa a fare politica perché sentivo proprio l'esigenza di mettermi a servizio della mia comunità per cercare di dare un'opportunità a tutti quelli che avessero una competenza e se lo meritassero e un aiuto ai più bisognosi. Ho imparato anche che per fare politica bisogna stare in mezzo alla gente e che la politica non si può fare da soli. Però mi rendo conto che molto spesso non ci sia la capacità di ascoltarsi, per questo anche se non siamo della stessa parte politica se vi sono delle cose che non avete chiare, che non avete capito, delle cose che volete affrontare invitatemi, iscrivetemi, vediamoci a cena davanti a un caffè, un aperitivo perché imparlare assieme è il modo migliore per trovare le soluzioni.